Che bella sta canzone! La paccia mamma, la paccia mamma, na 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 La paccia mamma, la paccia mamma, na 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 Ciao a tutti fratelli e sorelle! Sono Pietro Paolo Trinità, paparapapapapà e ho fatto sto video perché vi devo dire che mi è successo una cosa bellissima infatti so tutto del buon umore Oggi dove andam banga? E se da me nel tragitto c'è sta il negozio di uno del Bangladesh e c'è lì bangladino, no? E c'era un cartello fuori con un'occasione straordinaria 24 confezioni di pomada, c'era scritto 24 confezioni di pomada preparazione H e una forma da un chilo di pecorino per avere in omaggio un paio di ciabatte E ho detto ma questa è un'occasione speciale, straordinaria e chi se la perde? Speriamo che ce l'ha ancora sta offerta Ho preso queste 24 confezioni di preparazione H la forma di pecorino, me le sono messe nello zaino e poi le ciabatte e le tenevo così in mano Vabbè, sono andato in banga e nel tragitto della banga siccome c'era un po' di camminare ho scritto una poesia dedicata a Don Alessandro Minutella Sentite qua quanto è bella, eh? Poesia Sei brutto Don Alessandro? Mettete uno scafandro! Sei attivo Don Minutella! È molto meglio la Nutella! E a me sembrava proprio una bella poesia C'è stavano pure tutte le rime Bellis, subito sono andato dai miei amici da Cooperatores Falsitasis per fargliela sentire e Simona Marino che sono quelli che poi mettono i pollicetti giù che fanno tanto godere al decimo toro quando li vede sotto i video che parlano di Pietro Paolo Trinità Insomma, Cooperatores Falsitasis Simona Marino con la pagina Felpsucs lo sapete che mi hanno detto tutte e due ma questa è una poesia troppo buona dovevi dire che Don Minutella doveva andare all'inferno col decimo toro l'oro e il carotavirus eh ma io per me è stata una cosa inudita e io ho detto scusate ma anche io volevo dirne la poesia che Don Minutella è un eretico che Don Minutella è una prostata ma valla a trovare due parole che fanno rima con eretico e con prostata ma dove stanno? Sono difficilissime e invece se è brutto Don Alessandro meriti uno scafandro se sei cattivo Don Minutella è molto meglio la Nutella questo è un capolavoro ma loro dicono no, 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 no allora, vabbè giurin giurello, giurin giurello, giurin giurello e gli ho detto guardate forse non sono stato abbastanza cattivo con Don Minutella che se le merita tutte queste cose i cavalli del carotavirus i dei remodi però, però se lo incontro per strada gli faccio la colazione no, no, aspettami, sono sbagliato la clonazione la clonazione, no non ho colazione insomma se lo incontro e lo sapete che faccio? vado lì lo guardo nell'occhio e gli dico brutto Don Minutella lo sai adesso che faccio? eh? tu che sei contro Bergoglio e la Santa Chiesa prima te clono e poi ve mina tutte e due e vabbè questo era un pensiero che poi ho inviato un giorno intanto camminando di qua e dell'altro adesso è arrivato alla banca entro dentro tutto un marchigegno io stavo lì solo con lo zaino e mi hanno fatto posare tutte le chiavi le cose però il pecorino e la preparazione H quelle mi hanno fatto entrare insomma stavo lì e c'era un cartello bellissimo ti mettono a tuo agio c'era scritto la banca è come casa tua ah e allora ho pensato posso subito però è il paro di ciabatte che mi ha dato il banglatino e anche perché quel pecorino mi stava proprio a pesare con tutte quelle preparazioni che avevo posato lo zaino mi sono messo le ciabatte è una situazione assurda perché davanti a me due peccatori proprio di quelli che fanno all'inferno perché erano uomo sessuali e c'è stato tutto un malinteso col cassiere che era uno dei pari di quelli che perlano così e allora questi due uomo sessuali dovevano depositare dei soldi e li volevano vincolati e sono andati lì alla cassa e gli hanno detto vorremmo depositare dei soldi e il cassiere gli ha detto vincoleti e i due uomo sessuali hanno risposto eh di tento in tento ma come ma è assurdo ma questo è il peccato di scrotoma e gomorra ma è una cosa gravissima e poi mi hanno chiamato il direttore sono andato e mi ha detto signore Pietro Paolo Trinità si mette a suo agio io gli ho detto sono venuto a prendere i soldi direttore e le ho fatte a metà le mani in alto ha fatto anche una rapina gli ho detto no 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 sono venuto a prendere i soldi in voto classico della banca lui ha detto ah meno male quindi i soldi a strozzo no si è arrabbiato l'avessi mai detto e sapete che mi ha detto Pietro Paolo Trinità se non te ne vai prima te clono e poi ve meno a tutte e due ma ne è possibile ma era quello che avevo pensato di donmi te la roba da matti ecco perché stiamo a sprofondare tutti nell'inferno le cavallette i dei remoti Ercanotavirus tutti all'inferno 06 06 06 per chi chiama da fuori l'inferno Dio vi benedica sia lo dato Gesù Cristo sia fatta la sua volontà la gloria a Dio se volete se potete iscrivetevi al nostro canale Pietro Paolo Trinità dedicato al Signore Gesù con campanella mettete like al video per meglio far diffondere la parola di Dio e i messaggi dell'Apocalisse per il momento è tutto andate e non pecchiate più un caro saluto da Pietro Paolo Trinità paparapapa papà